Si è svolta ieri anche a Gela la notte dei licei classici presso l'istituto scolastico Eschilo. Una serata intensa e di grande impegno per studenti e docenti che ha coinvolto anche i genitori e gli alunni delle terze medie già a partire dal pomeriggio. Successivamente si sono tenuti momenti musicali, teatrali e di intrattenimento a cura dei liceali. Dalle 21 a mezzanotte poi musica da discoteca per tutti i presenti. La notte dei licei è una iniziativa avviata da un liceo di classico di Acireale dal professore Rocco Schembra che è docente di latino e greco che ha coinvolto quasi 400 licei in tutta Italia per significare sostanzialmente una cosa. Il liceo classico è la scuola dove si studia in maniera più approfondita ma allo stesso tempo il liceo classico è una fonte di risorse, di artisti, di persone in grado di coniugare. L'impegno assiduo di 5-6 ore al giorno nello studio è anche la capacità di suonare, cantare, ballare, recitare e così via. L'accusa che si rivolge al liceo classico è che è una scuola delle lingue morte. Noi con la notte dei licei vogliamo dimostrare che i licei classici sono vivi e le lingue morte servono per ravvivare ulteriormente l'esistenza della cultura. Io rifarei l'esperienza del liceo classico più e più volte perché comunque questa scuola mi ha insegnato non solo il metodo di studio ma anche a vivere. Quindi potrei dire che le esperienze che ho vissuto all'interno di queste mura, all'interno della mia aula, le persone che ho conosciuto oltre ai docenti, il dirigente ma soprattutto anche ai miei compagni di scuola e di vita sono delle persone fondamentali per la mia crescita. Rimpiangerò di questo liceo intanto i docenti che sono stati sempre disponibili, amorevoli, un po' dei genitori o comunque dei parenti per noi e ancor di più i miei compagni di classe. Il classico è intramontabile poiché fornisce una preparazione dal punto di vista umanistico innanzitutto e poi io non mi sento affatto impreparato anche dal punto di vista scientifico riguardo alle materie che possono essere matematica, scienze eccetera. Quindi a mio parere il classico è il liceo che fornisce la preparazione più completa di tutti gli istituti superiori.